La Regione siciliana, assessorato dell'istruzione e della formazione professionale, ha emanato il bando per l'assegnazione alle famiglie degli alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, statale e paritaria, di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per l'istruzione dei propri figli per l'anno scolastico 2017-2018 e quanto si legge in una nota diffusa dal libro Consorzio Comunale di Caltanissetta, già provincia regionale. Il termine per la presentazione delle istanze scaderà il 16 aprile 2018. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente presso l'istituzione scolastica frequentata, che provvederà a trasmetterla al Comune di Residenza, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie, e al Libero Consorzio Comunale per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, previa verifica dei requisiti di ammissibilità. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero lo stesso studente se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, l'ISEE, non superiore a 10.632,94 euro.